Striccioni polemici a Montepulciano in occasione della prima amichevole di peso della Salernitana contro il Grosseto, manifesti critici a Salerno firmati Curva Sud Siberiano. Anche questa stagione si sta aprendo con un botte e risposta polemico tra i sostenitori Granata e Claudio Lotito. Alla base dell'ennesima polemica a distanza le lamentele del patron della Salernitana, espresse in occasione della presentazione del nuovo tecnico Sanderra. Durante la conferenza stampa Lotito era tornato a chiedere una partecipazione più numerosa allo stadio in vista della prossima stagione, citando come esempio in negativo la gara di Supercoppa con la Propatria e tornando sulla promessa di rinforzare adeguatamente la squadra soltanto in cambio di risposte adeguate dalla tifoseria. Questo nuovo invito da andare allo stadio, sommato alla decisione del club Granata di far pagare un biglietto d'ingresso, seppur minimo, per le sgambature estive della squadra, hanno portato la nuova sfida a distanza. Manifesti Granata sono apparsi a Salerno tra ieri e venerdì con gli ultra della curva sud siberiano che hanno puntualizzato una serie di questioni. Ringraziando Lotito e Mezzaroma per aver restituito in due anni la prima divisione e i simboli storici, i tifosi Granata si sono detti al tempo stesso pronti a rinunciare ad un presidente facoltoso se questo non dovesse avere rispetto per la piazza dove avrebbe deciso, si legge testualmente, di mettersi in affari, ultra o parte di loro che quindi sarebbero pronti a starsene a casa per protesta. Una minaccia posta in essere già ieri sera in occasione dell'amichevole disputata a Montepulciano dalla Salernitana contro il Grosseto dove alcuni tifosi sono giunti per esporre uno striscione di protesta prima di andare via. Sulle gradinate comunque tanti sostenitori, tra questi anche quelli del coordinamento dei club, altri provenienti da Capaccio, dalla costa d'Amalfi e dalle regioni del centro nord che in ogni caso avevano deciso di trascorrere il fine settimana in Toscana. Naturalmente la polemica ultra Lotito ha alimentato inevitabili malumori anche all'interno della stessa tifoseria alla vigilia del primo appuntamento ufficiale della stagione. Non è da escludere nei prossimi giorni un'ulteriore presa di posizioni degli ultra che chiedono allo Tito di avere maggiore rispetto per la passione di quanti seguono da sempre le vicende della squadra del cuore. Noi abbiamo rispetto di tutte le posizioni, però noi abbiamo solo il dovere di lavorare e cercare di fare il massimo con i ragazzi a disposizione. Quindi sono cose, punti di vista dei diffusi vanno rispettati perché è una componente importante, la proprietà ha le proprie idee, quindi speriamo che magari si arrivi ad un punto d'unione perché ripeto quando si sta tutti sulla stessa bar che si rema forte sicuramente si può avere una spinta maggiore.